La Regione Toscana ha stanziato un cofinanziamento regionale da 3 milioni e 200 mila euro che attiverà sul tutto il territorio toscano oltre 4 milioni e 300 mila euro di investimenti per ripristinare e mettere in sicurezza numerosi tratti di viabilità comunale in decine di piccoli comuni. Probabilmente quest'anno questa misura risulterà ancora più preziosa visto la contrazione delle entrate che anche i comuni hanno a seguito dell'emergenza economica che segue a quella sanitaria. Quindi siamo particolarmente soddisfatti di poter aiutare 70 comuni in Toscana che hanno presentato questi progetti e sono comuni piccoli perché la priorità è data a quelli con minore popolazione e quasi sempre risedenti nelle nostre aree interne. Grazie al cofinanziamento regionale fino all'80% per un importo massimo di 50 mila euro a progetto saranno realizzati 13 interventi in provincia di Arezzo, 3 in provincia di Firenze, 8 nel Grossetano, 1 nel Livornese, 13 in provincia di Lucca, 5 in quella di Massacarrara, 7 nel Pisano, 2 nel Pistoiese e 15 in provincia di Siena. Grazie a tutti.